da che cosa mi sono lasciato prendere per abbandonare tutto il resto e venire in manicomio che sia stata la poesia sì per lei perché in un manicomio come questo ella può arrivare più facilmente la follia è un tentativo di negare che siamo mortali e lo fa spesso negando lo scorrere del tempo beh attraverso la mia esperienza che io ho vissuto nel manicomio di margiano cosa mi rappresenta presenta un mondo di sofferenza per quello che ho vissuto io la giornata era una giornata piovosa e mi portò in questo stanzone dove dentro c'erano io penso circa 150 persone che erano i degenti tutti affollati in questo stanzone la maggior parte nudi o semi nudi che stavano lì in una condizione veramente diciamo possiamo dire bestiale a a Grazie per la visione